non avrei mai pensato che uno smartphone rugged che costa poco più di 100 euro mi sarebbe piaciuto così tanto ciao amici benvenuti in questo nuovo video dove parleremo di uno smartphone da lavoro vedendo più da vicino un dispositivo molto economico il prezzo scilla tra i 100 e i 120 euro basta solo saper cercare trovate tutti quanti i link per l'acquisto sotto in descrizione e devo essere sincero mi aspettavo un dispositivo pessimo invece mi è piaciuto tanto perché è concreto e usabile sia l'autonomia che maneggevolezza per chi ovviamente è interessato a un dispositivo del genere ma prima di andare a vedere questo O2F T7 rugged phone economico cari amici di solito momento supporto lasciate un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere nessuna novità e commentate per farmi sapere le vostre opinioni ovviamente seguitemi su TikTok dove ci sono contenuti molto interessanti in meno di un minuto se avete bisogno poi di assistenza informatica gratuita o più semplicemente di un consiglio scrivetemi su Instagram o tramite il mio canale di supporto Telegram aiuto veramente tutti i link li trovate sotto in descrizione dove trovate anche il mio nuovissimo canale Whatsapp dove posto un sacco di chicche davvero interessanti ma mando le ciance andiamo a vedere questo dispositivo più da vicino perché non vedo l'ora di parlarvene nella scatola direi anche molto carina troviamo il nostro smartphone alimentatore da rete da 10 watt dopo vedremo come si comporta i tempi di ricarica ma è il massimo che il nostro smartphone riesce a supportare in realtà sono 11 watt e mezzo manuale utente è presente anche l'italiano poi abbiamo questo spillino con gancio per andare a rimuovere il vassoio SIM pellicola già applicata in maniera perfetta anche l'accortezza di avere l'adesivo con le info tagliato qui sull'angolo per evitare che quando lo leviamo solleviamo la pellicola e ci vada della polvere ovviamente non c'è alcun tipo di custodia cavo USB A USB C sia per la ricarica che per il trasferimento dati e cosa molto comoda troviamo poi un vetto temperato per la protezione maggiore soprattutto dai graffi del nostro smartphone sono presenti anche due pannetti di uno asciutto e l'altro bagnato per l'applicazione avrei preferito però trovare anche il dust remover che non sono nient'altro che degli adesivi come questi a volte senza qualche granellino di polvere ci scappa e l'applicazione del vetto temperato non è perfetta quanto riguarda le dimensioni abbiamo 82.8 x 184.6 x 12.8 mm e un peso di 292 grammi sia ben chiaro non è un peso piuma ma è tutto ben ripartito e non è un mattone come molti altri suoi competitor tenendolo in mano la sensazione è davvero gradevole ben fatto Hot Web la costruzione deve essere caratterizzata da un'intera scocca in gomma antiurto con rinforzi in alluminio nelle parti laterali studiata appositamente per assorbire urti e cadute ricordiamoci che questo smartphone ha la certificazione militare che garantisce la sopravvivenza a cadute da un metro e cinquanta grazie anche al vetro Dragon Trail che è la prima volta che trovo su uno smartphone la rifinitura usata per la scocca posteriore è davvero molto gradevole infatti è una trama che ricorda la fibra di carbonio impedisce alle impronte digitali di apparire davvero ben fatto sempre nella parte posteriore spicca poi la scritta Hot Web e questo modulo circolare che sporge un poco al cui interno contenuta l'unica fotocamera da 21 megapixel e flash LED il resto c'è solo per meri aspetti estetici nella parte superiore purtroppo niente sensore IRDA che avrebbe fatto comodo e niente LED di notifica che apprezzo sempre trovare in questi dispositivi sul lato sinistro troviamo i due tastini per la regolazione del volume e il carrellino SIM cari amici che è in grado di ospitare o dei SIM in formato nano o una SIM e una micro SD per l'espansione della memoria fino al massimo di 2 Tera mi raccomando utilizziamo memoria di buona qualità altrimenti il telefono andrà a rallentare vi lascio sotto in descrizione delle possibili alternative passoio SIM come potete vedere è protetto da questo tappino in gomma che evita che vada ad entrare appunto l'acqua sul lato destro poi troviamo il tasto power niente sensore di impronte digitale ma visto il costo davvero molto concorrenziale ricordiamoci che questo smartphone si trova a poco più di 100 euro non lo trovo una grossa pecca cari amici c'è da dire che avrei preferito trovare magari un tasto personalizzabile che poteva essere utilizzato ad esempio per avviare velocemente la torcia o un'applicazione sul lato inferiore del dispositivo sono presenti poi la porta USB tipo C supporto TG protetta per l'intrusione da liquidi e abbiamo poi il microfono e l'unico altoparlante l'8web T7 ha un pannello da 6.52 pollici tipo IPS con risoluzione HD plus 1600x720 pixel formato 19.5 noni 269 pp la cornice c'è ma non è poi tantissima e devo essere sincero la sensazione che trasmette questo schermo è davvero gradevole il display si economico ma è uno dei migliori visti in questa fascia di prezzo ha una luminosità tipica di 450 nitte massima di 600 i colori sono abbastanza fedeli ma in esterna si fa fatica sotto la luce diretta del sole anche perché la luminosità automatica è un po' troppo conservativa abbiamo il notch a goccia che può essere utilizzato per lo sblocco dello smartphone sblocco che avviene in tempi abbastanza rapidi riconoscimento facciale solo 2D quindi non proprio la cosa più sicura del mondo superiormente abbiamo la capsula auricolare che avrei utilizzato anche per la riproduzione dell'audio a proposito di audio ora ve lo faccio sentire così ci rendiamo conto della qualità ovviamente stiamo parlando di uno smartphone economico non dobbiamo aspettarci dei miracoli il suono è mono il volume è bassi poi sono completamente assenti per qualcosa di più accurato vi lascio sotto in descrizione delle cuffie un po' per tutte le tasche purtroppo non abbiamo la certificazione google wide wine di livello 1 ma sinceramente non la vedo poi una grave pecca la certificazione che non ci permetterà di vedere i contenuti su Netflix e Prime Video in alta definizione ma consideriamoci che questo schermo ha una risoluzione HD e non Full HD lato software Lotto Web T7 ha Android 13 con le patch di sicurezza di gennaio non troviamo funzioni particolari e alcuni menu cari amici non sono proprio tradotti ma sinceramente meglio così che non con delle traduzioni quantomeno fantasiose lo potete vedere ad esempio questo menu non è proprio tradotto comoda poi la funzione che permette di utilizzare il nostro smartphone con i guanti o anche la cassetta degli attrezzi cari amici dove troviamo un sacco di tool davvero utili aspetto positivo poi non è presente alcun tipo di app spazzatura installata all'avvio e questa cosa è davvero un valore aggiunto il diare è quello di Google e non ha l'opzione per andare a registrare le chiamate se volete sapere come attivare la registrazione delle chiamate nativa sul vostro smartphone Samsung ad esempio si può fare anche per Huawei Honor o Xiaomi anche se è un po' più complicato vi lascio il video sia qui sopra che sotto in descrizione una cosa che devo essere sincera mi è piaciuta è che questo dispositivo sia nell'utilizzo social la navigazione web si ha degli impuntamenti è inutile nascondere il processore non è che sia proprio un fulmine ma per il prezzo di acquisto è davvero usabilissimo ricordiamoci che in promo questo smartphone si trova a poco più di 100 euro per quanto riguarda la connettività abbiamo wifi 5 prodotto 5.0 e gps con GLONASS e supporto ai satelliti Galileo purtroppo niente radio FM che in un dispositivo del genere vorrei sempre trovare niente chip nfc ma su uno smartphone così economico non la vedo una grossa pecca lato cpu abbiamo una mediatek 87-88 processo produttivo a 12 nanometri quindi non proprio recentissima clock massimo di 2 gigahertz a cui si associa la gpu mali g72 4 giga di ram espandibili fino a 8 in maniera virtuale e 128 giga di storage interno di tipo ufs i miei test hanno rilevato 418 mega in lettura e 318 mega in scrittura ottimo risultato e l'usabilità ne va a ringraziare io mi sarei aspettato sinceramente le lentissime mmc 5.1 e questa cosa mi ha sorpreso in positivo a livello di benchmark si ottiene un risultato non altissimo ma buono per la fascia di prezzo parliamo di 245.833 con AnTuTu versione 10 abbiamo poi la giustificazione militare quella IP69K che lo rende resistente a immersioni fino a 30 minuti lato batteria l'autonomia c'è parliamo di un'unità da 6280 mAh che è più che ottima visto il prezzo contenuto per un rugged phone i due giorni sono alla portata poi cari amici giudicare l'autonomia di un dispositivo è davvero complicato perché dipende da mille fattori più semplicemente anche il software installato per quanto riguarda la ricarica sono cattivo lo so ma un poco poco sono deluso perché mi sarei aspettato almeno 18 watt invece ci fermiamo a 10 11.5 con l'alimentatore un po' più potente giusto per essere precisi per far capire che i dispositivi vengono provati realmente abbiamo circa il 25% ogni 30 minuti per la ricarica completa quindi uno 0-100 sono necessarie circa due ore purtroppo nel presente la ricarica wireless che secondo me in uno smartphone da lavoro non dovrebbe mai mancare in quanto il connettore di ricarica potrebbe bagnarsi e non essere utilizzabile per un po' di tempo ma non si può annoverare come difetto visto che non c'è nemmeno negli smartphone top penso ci sia un limite costruttivo nell'implementarla abbiamo pure la ricarica inversa cablata da 5 watt che fa diventare di fatto questo smartphone una piccola powerbank lato fotocamere l'Hotwave T7 due fotocamere una frontale una posteriore come abbiamo già visto il secondo sensore posteriore c'è solo per meri fattori estetici la fotocamere principale è da 22 megapixel il sensore è prodotto da Sony abbiamo un'apertura focale di f2.0 e una lunghezza focale equivalente a 35 mm abbiamo uno zoom poi digitale usabilissimo fino al 5x il resto lo lascio giudicare a voi perché io sarei troppo di parte in quanto a me visto il prezzo d'acquisto le foto scattate da questo smartphone sono piaciute e non poco ma solo dalla fotocamera posteriore quella frontale da 8 megapixel un po' di meno in quanto gli scattano i dettagli ma di sicuro si useranno poco per i social dove comunque possiamo sfruttare i filtri lato video possiamo registrare fino a 1080p 30 fps dalla fotocamera posteriore e 720p per quella anteriore beh amici tiriamo un po' le somme questo smartphone a me è piaciuto e se volete acquistare un rugged phone e il vostro budget è tra i 100 e i 120 euro beh non dovete cercare altro questo è lo smartphone adatto a voi perché è ben ottimizzato concreto e scatta pure ottime foto e non è soprattutto un mattone da quasi 500 grammi poi anche il design è fatto bene devo essere sincero complimenti Outweb che mi ha sorpreso al momento il prezzo migliore l'ho trovato su Aliexpress ma anche su Amazon ci sono delle promo per qualsiasi consiglio ovviamente che nemici commentate bene siamo arrivati quasi al termine di questo video e quindi al sotto momento riepilogativo dei pro e dei contro tra gli aspetti positivi sicuramente autonomia fotocamera posteriore design prezzo molto competitivo usabilità e velocità visto il prezzo di acquisto come anche il display che mi è piaciuto dotazione davvero top trovare il vetro temperato è sicuramente un valore aggiunto tra i contro ricarica avremmo avuto la 18 watt ma non si può avere tutto aggiornamenti un po' il neo di questi brand bene cari amici per questo video è tutto mi raccomando condividetelo noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità attivate la campanella per non perdervele e mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Outweb T7 un saluto dal massimo di youtube e di tiktok ciao Outweb T7